Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Leopardo Cesarotto e vi volevo dire che finalmente, allora, avevo un paio di cose veloci da dirvi che la prima cosa è che in questi giorni a Pasqua compro il computer e quindi posso fare tutti i tipi di giochi, anche quelli che si facciano il download tra cui voi mi dovete consigliare magari sulla pancia di Facebook, chi ha il mio numero o sul mio numero oppure qui sotto nei commenti se ti può fare Citizen Burger Disorder che sarebbe un gioco bello, guardatelo i video Happy Wheels, continuarlo, ma quello lo continuo Slenderman, i giochi horror, così o Sergeant Simulator che sarebbe quello che deve fare gli interventi alle persone e il computer insieme al computer è anche la webcam, logicamente e quindi anche mi vedrete in webcam ma il microfono mi sono aggiustato e l'ho trovato quindi se ci parli attaccato così fa rumore no se ci parli lontano non fa rumore e quindi niente, consigliatemi i videogiochi io volevo provare a fare una intro diversa dal solito e mi sono tagliato i capelli lo so che lo stai guardando dall'inizio del video perché sono diverso buongiorno, buonasera e benvenuti amici io sono Pietra Guerra allora Pietra Guerra di Pietra Guerra e ieri anche adesso scherzo io logicamente che non si offenda a lui o non pensiate male io scherzo no? allora adesso Pietra Guerra è passata ciao amici, io sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui in un nuovo video speciale Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova famiglia io sono FabiJ ho fatto la cavolate perché dovevo fare qualcosa di intelligente per allungare il video poi adesso la scrivania che è un bordello quindi il microfono lo sistemerò e non lo terrò sempre così con le mani tipo forse no comunque il microfono quindi da pasqua mi potete chiedere qualunque gioco così lo vedete e niente come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace anche alla pagina di facebook e come nei video trovate nella descrizione vi ricordo di commentare anche i giochi che volete tra un gioco buffo Happy Wheels, un gioco oro, lo saio in simulator e ricordate sempre illuminati con forma ancora la banconota di quel video bella ragazzi non ci sarà la musica perché non avevo voglia di metterla stasera bella ragazzi bella ragazzi